La storia dell'esitalienne de Paris, di Irene Paresci, che qui vediamo un'opera riprodotta alle mie spalle, è una storia affascinante di artisti che rilanciano lo stile della grande arte italiana a Parigi dal 1928 al 1933 e reinterpretano il classico in chiave assolutamente contemporanea e con l'utilizzo di una tecnica antica reinventano uno stile, uno stile assolutamente italiano e infidiato persino dai francesi. Grazie per la visione!